Il memoriale di Nino Lo Giudice non è casuale, lo ha detto il procuratore capo di Reggio Calabria Federico Caffiero De Rao in riferimento alla situazione che si è venuta a creare dopo la scomparsa del collaboratore di giustizia Antonino Lo Giudice. Della retromarcia del pentito e del suo memoriale si occuperanno le procure di Catanzaro e Perugia dove sono destinati due fascicoli che sta preparando la procura regina. Nel momento in cui esce fuori il memoriale e si scatena un campo ampio di fonti che gridano al complotto, ha spiegato Caffiero De Rao, è evidente che le nuove dichiarazioni di Lo Giudice non sono casuali. Il memoriale compare in un preciso momento ma è solo un'ipotesi se ne occuperanno le procure competenti. Per quanto ci riguarda continueremo la nostra azione sul campo strettamente legato alla nostra competenza. Caffiero De Rao non ha esitato però a fornire gli elementi che si sono sviluppati dopo la ritrattazione scritta di Lo Giudice. La procura ha detto al compito di contrastare le regolarità di rilevo penale e perciò continuerà a muoversi in modo coeso. Ciò che si legge sui giornali in questi giorni non toccherà minimamente l'imparzialità dell'ufficio che ho l'onore di dirigere, così come l'efficienza e il suo equilibrio. Il procuratore ha poi aggiunto non deve sfuggire a nessuno come lo giudice nell'ambito dei dibattimenti in cui è intervenuto fino a che è stato presso il domicilio protetto ha confermato tutte le dichiarazioni che erano state riferite. Non solo in una audienza ringraziato per il trattamento ricevuto, poi invece arriva il memoriale e scompare. Il pentito ora sostiene di essere stato manovrato dalla DDA di Reggio Calabria e fa i nomi dell'ex procuratore Giuseppe Vignatone adesso a Roma, dell'aggiunto Michele Prestipino, del PM Beatrice Ronchi e dell'ex capo della mobile Renato Cortese che oggi dirige la squadra mobile di Roma. Noi ci muoviamo su una direzione che è quella che fa riferimento a procedimento già aperto in passato mentre evidentemente per quanto riguarda il memoriale se ne occuperanno la procura di Perugia e la procura di Catanzaro atteso che, come ho già evidenziato, lo giudice si era presentato nei dibattimenti confermando in modo specifico e sottoponendosi all'esame sia del pubblico ministero che delle difese laddove ha partecipato con la conseguenza che il memoriale che oggi ritratta totalmente le accuse andrà valutato naturalmente dalle autorità giudiziarie competenti che avranno il dovere di esprimere valutazioni previo approfondimento della effettività della volontà dello giudice nel compilare quel memoriale.